La seconda linea di intervento del progetto POLIS Spazi per l'Italia prevede di mettere a disposizione 250 spazi su tutto il territorio nazionale, 80 dei quali saranno attivati in comuni con meno di 15.000 abitanti, convertendoli a spazi di co-working di dimensione piccola, media e grande, tutti interconnessi tra di loro al fine di costituire un'unica rete digitalizzata e smart. L'obiettivo è quindi di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese. Postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta a privati, aziende e alla pubblica amministrazione, oltre che all'università e ai centri di ricerca. Alla presenza del sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e di una rappresentanza di cittadini, di associazioni di categorie e di imprese locali, la referente della struttura immobiliare di poste italiane Roberta Sacchetti ha presentato e descritto il nuovo spazio di via Oppalco scelto da poste italiane come primo in Molise e come uno dei primi dei 250 in tutta Italia nell'ambito del progetto per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi. Spazi per l'Italia è una delle anime del giocchio progetto Polis, con il quale poste italiane ripanisce la propria presenza sui territori e la vicinanza alle comunità. Nello specifico Spazi per l'Italia si vuole l'obiettivo di dare un contributo sociale ed economico alle realtà locali e alle categorie di professionisti o piccoli imprenditori e giovani start-up e aiutati nella attivazione senza oneri e investimenti iniziali della propria attività. L'area di via Oppalco dispone di un ufficio privato per due persone e di un open space con quattro postazioni, oltre a un'accogliente area break. L'offerta commerciale degli spazi per l'Italia include tutti i servizi, arredi degli uffici, connessione internet wifi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Con questo ulteriore servizio Larino entra dunque a far parte della rete di spazi per ufficio più diffusa e accessibile del Paese, un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di poste italiane nel processo di innovazione e crescita economica del Paese. Ringrazio i posti italiani per questo progetto che è stato unito fortemente in questa comunità. Noi l'abbiamo apprezzato e è fondamentale per poter garantire un maggiore sviluppo del tessuto economico e produttivo della nostra città, del tessuto circondario.